Eccoci al secondo appuntamento di lettura di questa versione audiobook del mio libro come la pastura per il pescatore e il vento per l'aquilone. Mi auguro abbiate ascoltato la prima puntata dove siamo arrivati fino a pagina 24 tralasciando la prefazione. I capitoli qui parlano di non è un libro per imparare a pescare, è molto più profondo e rivolto verso l'interno, siamo ancora nella parte in cui spiego il significato del libro. Chi scrive un libro di questo tipo ha risolto tutti i problemi, magari. Entriamo poi nel vento per l'aquilone, alcuni aforismi e vediamo come affrontare azioni e reazioni, come decidiamo di affrontare i passi da fare e poi la direzione e la distanza dell'obiettivo, allontanarsi per prospettiva. Arriveremo fino alla resistenza e la perseveranza, il metabolismo del progetto, ci fermeremo proprio a pagina 36. Ricordo che come spiegato nel primo incontro dobbiamo pensare a questa lettura come delle metafore, wax on wax off, metti la cera, togli la cera, quindi alcuni esempi devono essere pensati metaforicamente rivolti dalla pesca verso la vita. Va bene? Non è un libro per imparare a pescare, è molto più profondo e rivolto verso l'interno. Più avanti ti parlerò di come la metodologia di approccio della pastura per il pescatore sia stata la chiave di lettura per la mia vita, professionale e no. Ma è importante anche che ti spieghi perché ti parlo di pesca, visto peraltro che non pesco più da tanti anni. Pescare è un'attività decisamente lenta, che non presenta difficoltà particolari e che per essere effettuata nel migliore dei modi richiede esperienza e conoscenza. Ci sono tuttavia momenti in cui è necessario essere estremamente determinati e rapidi. Bisogna conoscere i luoghi di pesca, le specie dei pesci e le loro abitudini di vita e alimentari. Bisogna pensare alle esche più adatte in base a quale pesce vogliamo catturare tra quelli presenti nel luogo di pesca in cui siamo e dunque trovare il modo di attrarre solo quel tipo di pesce. Per farlo è necessario anche essere accorti nell'utilizzare un filo abbastanza sottile, cosicché il pesce non lo veda, oppure nel caso sia in grado di vederlo non lo percepisca come una minaccia. È importante però che questa lenza sia commisurata al peso del pesce per non strapparsi nell'eventualità che l'animale abbocchi. Per questo vi dico che è tutto metaforico. E che dire del lamo? Non deve essere troppo piccolo e nemmeno troppo grande. Per mettere poi l'esca sul lamo e pasturare nella zona di pesca è essenziale non essere schizzinosi, ma pronti a fare qualcosa di sgradevole, ovvero sia mettere le mani tra i vermi, infilarli sul lamo, mescolare e usare esche e pasture che a volte hanno odori non certamente piacevoli. Inoltre per pescare è fondamentale essere sufficientemente in pace con se stessi e vincere le proprie frustrazioni con l'accettazione della sconfitta. Se i pesci non vogliono abboccare non c'è nessuna azione che possiamo mettere in gioco per cambiare questa situazione. Nella pesca si alternano la lentezza e la rapidità, l'attesa e la determinazione quando il pesce abbocca. Tutto ciò che abbiamo visto in queste poche righe è da interpretare metaforicamente, ma vedremo ogni cosa passo dopo passo. Intanto abbiamo bisogno di sintonizzarci sul come pensare all'unisono. A proposito di sintonizzarsi voglio aprire una piccola parentesi riguardo al presente. Tante volte sentiamo dire di quanto sia importante vivere il presente e io mi chiedo come sia possibile non farlo. Questa frase fa parte di quei detti e di quei modi di dire che sono apparentemente profondi, di quelli che poi vengono usati nei meme sui social, ma che, a mio avviso, significano meno di quanto sembri. Ne vedremo altri in questo libro. Non è possibile non vivere il presente, ma è importante viverlo con una consapevolezza, una responsabilità continui, rivolti al futuro, al compiere le giuste azioni e pensando senza frustrazioni a se stessi, come arrivati e di conseguenza prepararsi alla sostenibilità degli obiettivi che ci siamo posti. Nel percorso che stiamo iniziando insieme incontreremo spesso concetti che, a mio parere, vanno visti, rivisti e reinterpretati per poi comprendere che per alcuni vale tanto il concetto quanto il suo opposto. Così come vedremo che un pregio e un difetto possono essere la stessa cosa, avremo di che riflettere. Capitoletto. Chi scrive un libro di questo tipo ha risolto tutti i problemi? Magari. Nel mio lavoro di musicista ho avuto l'occasione di conoscere tanti, grandi, grandissimi artisti. Alcuni di loro interpreti e molti di essi anche autori e cantautori. Altre occasioni, come spettacoli televisivi o eventi che ho prodotto, mi hanno fatto conoscere artisti in altri ambiti della creatività, non solo della musica cantata e suonata. Sto parlando di stilisti, coreografi, ballerini, pittori, poeti e letterati. E ho compreso fondamentalmente una cosa. L'artista non rappresenta con la sua arte ciò che è, ma più spesso ciò che vorrebbe essere, ciò che a lui piace e anche ciò che vorrebbe che gli altri pensassero di lui. Comprendere questo ci aiuta anche a non idealizzare certi artisti e di conseguenza a non restare delusi nel caso si venga a conoscenza di alcuni loro comportamenti che non riteniamo consoni a quello che hanno rappresentato con la loro arte o canzoni. Ci sono degli aneddoti riguardanti alcuni cantautori che da soli darebbero un'idea diversa del loro essere, ma realmente ci interessa? Penso in tutta sincerità che se siano degli idoli sia meglio non incontrarli mai, perché non è detto che la persona sia ciò che ha cantato o rappresentato. Dal film Una pura formalità di Giuseppe Tornatore vi leggo questa frase. Non dovresti mai conoscere gli autori delle opere che ami, finiresti per scoprire che le hanno scritte mentre aspettavano una scarica di garrea. Ho voluto scrivere alcune righe qui, in questa primissima parte del libro, perché non sto cercando di fare del proselitismo e non voglio che tu pensi che io mi ritengo una specie di supermente, in grado di elaborare questa teoria su pastura, pescatore e vento per risolvere tutti i problemi e raggiungere qualsiasi obiettivo. Di certo, quelle che scrivo in questo libro sono una grande quantità di riflessioni che vorrei ti fossero d'aiuto, aiutandoti a valutare alcuni aspetti che possono darti diverse chiavi di lettura agli eventi della vita. Ma quello che questo libro suggerisce è un lavoro giornaliero da fare su se stessi ed è un lavoro che ancora sento di dover fare anch'io. Siamo studenti insieme, basti pensare che anche i medici a volte si ammalano. Siamo a un nuovo capitolo, il vento per l'aquilone. Pagina 28. L'osservazione, forse addirittura banale, di come un aquilone possa andare sempre più in alto con il vento contrario, mi ha permesso di elaborare questa semplice teoria, che spero possa esserti utile, in generale per affrontare le avversità di un vento contrario. Attenzione a non confondere l'aggettivo contrario che ho appena utilizzato due volte, e non a caso, associandolo fra l'altro alla stessa parola vento, per esprimere due concetti in effetti opposti. La prima volta mi sono riferito alle condizioni favorevoli al volo di mezzi come aerei, agli anti-aquiloni, di cui ti ho già parlato. La seconda invece ho inteso l'accezione di avverso, alludendo a un'energia ostile e certamente non favorevole. Ci tengo a precisarlo per evitare confusione. Se tu fossi un appassionato di volo, per esempio, potresti equivocare e arrivare al significato opposto a quello che do io. Personalmente mi sono sentito molto spesso, mi verrebbe da dire sempre, con il vento contrario addosso. Una serie di eventi negativi hanno costellato la mia vita, ma ho avuto paradossalmente la grande fortuna di trovare chiavi di lettura per sorpassare questi eventi e cercare di farne tesoro, facendoli diventare, in alcuni casi, il vento per l'aquilone. Essendo cresciuto in una famiglia cattolica, in alcuni periodi, dominata da una buona dose di bigottismo, ho associato, e mi hanno fatto associare, gli accadimenti negativi alla croce di Cristo, ricordando che Dio non ti dà una croce troppo pesante perché tu non la possa sopportare. Carl Jung ha scritto l'uomo cresce secondo la grandezza del compito, l'uomo ha bisogno delle difficoltà, sono necessarie alla salute. Verso i 15 anni, nell'85, cercavo di capire se quello che mi dicevano avesse un senso, se potesse sviluppare un potere, se potesse avere degli aspetti negativi con risvolti positivi. Così invece di seguire pedissequamente la fede dei miei genitori, andavo in biblioteca per cercare risposte, più che nella religione, nella spiritualità. Era un momento particolare, avevo terminato le medie nell'84 e subito dopo ero andato a lavorare, poiché alla mia mini famiglia, sono figlio unico di figli unici, servivano soldi. Concluse le otto ore di lavoro, quando avevo 14 anni, non avevo altri impegni se non cercare di colmare la mancanza di nozioni che l'aver lasciato la scuola aveva generato. Mi creai, pur quindicenne, una mia personale idea di fede, basata su una visione abbastanza equilibrata delle cose. Frequentavo il centro missionario di Carpi davanti al Vescovato e ci andavo una o due volte a settimana per preparare le medicine da inviare ai missionari sparsi in varie parti del mondo. Prima che lo zen diventasse una moda, lessi diversi libri in merito, ma ne consultai anche altri riguardanti il buddismo, lo scintoismo, oppure alcuni testi di psicologia di Jung, Adler e Freud. Non mi feci mancare anche qualche libro sulle cività perdute come i Maya, gli Incas e gli Aztechi. La mia giornata era suddivisa in blocchi, otto ore al lavoro, tante ore sulla chitarra, suonavo da sole con varie band e in più studiavo con un programma didattico autogestito che mi ero fatto da solo e nel tempo che restava mi impegnavo a non restare indietro con la mia cultura. Il vento contrario di quegli anni era per me un vento fortissimo, avevo una visibilissima forma di acne i brufoli degli adolescenti. Mi vergognavo a uscire di casa perché mi sembrava che la mia faccia facesse schifo e avevo l'impressione che tutti mi guardassero con disprezzo. Non ho nessuna foto in primo piano di quegli anni per capire se in effetti fossi pieno di brufoli o fosse soltanto una mia impressione. A me sembrava di esserne pieno ma magari era solo una fobia, un po' come quella delle ragazze noressiche che si vedono grasse nonostante siano magre. Mi schiacciavo sempre i brufoli, facevo continui impacchi di acqua e sale, maschere di argilla, insomma le provavo tutte, purché fossero rimedi a basso costo, non potendomi permettere altro con quel poco che restava della mia busta paga dopo aver tolto le spese che servivano per il mantenimento della mia famiglia. Ma proprio il fatto di non uscire mi ha messo in condizione di stare ore a studiare musica, di cercare qualcosa in cui eccellere per una sorta di compensazione. Quello che sono sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista delle conoscenze, è dovuto anche a quel forte vento brufoloso spirato verso di me in quegli anni. Con il tempo iniziai ad avere una certa consapevolezza e mi dicevo ok, se mi guardo allo specchio mi faccio schifo e preferisco non uscire, allora ne approfitterò per diventare un bravo chitarrista, dedicando tutto il tempo a disposizione che ho a questo sogno. Quindi ho pensato a quale lettura dare ai venti contrari che possiamo incontrare. Azioni e reazioni, come decidiamo di affrontare i passi da fare. Un nuovo capitoletto. Franklin Delano Roosevelt ha detto, ci sono molti modi di andare avanti, ma solo un modo di stare fermo. Madre Teresa di Calcutta ha detto, dietro ogni traguardo c'è una nuova spartenza, dietro ogni risultato c'è un'altra sfida. Finché sei vivo, sentiti vivo, vai avanti anche quando tutti si aspettano che lasci perdere. Possiamo comprendere meglio quali sono le azioni e quali sono le reazioni. Le azioni sono quelle che scegliamo di intraprendere. Come e quanto impegnarci, quanta passione mettere in gioco, quanto tempo dedicare. Insomma, quello che poi vedremo far parte dei metodi diversi che scaturiscono da alcuni principi. Le reazioni sono le decisioni prese di fronte agli eventi, il vento contrario. È di fondamentale importanza aver ben chiaro le giuste azioni da intraprendere, ma è ancora più importante rispondere prontamente con le giuste reazioni. Una delle reazioni più forti è quella generata dalla paura di non raggiungere il nostro obiettivo, ma, attenzione, anche quella di raggiungerlo. Buona parte del lavoro che dobbiamo fare su noi stessi è proprio quello di prepararci ad affrontare il successo, stante nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il successo è tutto lì. Ti faccio un esempio davvero molto banale, relativo al mondo della musica. Ipotizziamo di avere lungamente lavorato per raggiungere il nostro obiettivo di voler suonare in un grande concerto. Al momento delle prove pomeridiane, ovvero il soundcheck, possiamo realizzare se ci siamo arrivati pronti al 100% oppure abbiamo sottostimato qualcosa. Ecco il primo ostacolo. L'ostacolo più grande, però, è l'ansia da palco, l'ansia da prestazione. Essere, cioè, così vicini al nostro obiettivo e sentirci sotto stress a tal punto da rischiare di cancellare tutto il duro lavoro fatto fino a quell'istante. Il cuore aumenta i battiti, le mani sudano e non siamo più sicuri nemmeno di come si fa il primo accordo imparato, il do maggiore. A questo punto la reazione determinerà se quello che stiamo provando sarà destinato a diventare un eustress o un distress. Il primo, eustress, è qualcosa legato a una forte tensione che può portare al miglioramento della prestazione, il secondo a distruggerla. Siamo al punto in cui, tornando al titolo di questo libro, ci troviamo a pescare a largo, nella zona dove abbiamo buttato la pastura, dove si gioca duro, dove potremmo dire o la va o la spacca. Eccoci quindi a contare i pesciolini presi a inizio gara mentre la pastura faceva effetto. Che tradotto in questa situazione vuol dire eccoci a ritrovare la sicurezza pensando a quanto abbiamo studiato, a quanto abbiamo provato, a quanto abbiamo curato ogni singolo dettaglio, dalla strumentazione al suono, da come muoverci sul palco a come vestirci. La qualità professionale con cui affrontiamo questa fase è sia la nostra pastura, sia i pesciolini in la rete e la nostra sicurezza. È quello che ci può far dire o la va o la facciamo andare. Perché siamo già certi che andrà bene, perché abbiamo visualizzato fin dall'inizio come saremmo stati su quel palco. Ma l'ansia e lo stress potrebbero colpirci nuovamente con un altro vento contrario ed è quindi necessaria una nostra reazione preventiva perché si sa che prima di un concerto sia in tensione. In questo specifico ambito penso che la storia ci abbia dato sufficienti esempi di come artisti di grande valore si siano distrutti con brutte abitudini. Noi dobbiamo trovare la sicurezza della prestazione, del raggiungimento di obiettivo che sia sostenibile. Dunque, a chi dice di suonare bene soltanto se si ubriaca prima, di solito rispondo che dovrebbe sentire le registrazioni della sua performance in quello stato perché magari è semplicemente troppo ubriaco per accorgersi che ha suonato male. Se il sogno di arrivare a fare una cosa, qualsiasi cosa, è davvero importante deve essere, come ho già scritto, sostenibile e questo significa che deve avvenire in un ambiente che sia vicino a quello della vita. Non esistono comportamenti non sani che possano dare buoni risultati. Se si prova stress prima di una performance è meglio provare a fare esercizi di respirazione, prendere in mano la scaletta e chitarre in mano, ripassare i passaggi fondamentali dei brani da eseguire per convincersi di essere pronti. Reazioni positive sono frutto dell'abitudine ad azioni positive e di metodi fondati su principi positivi. È praticamente impossibile che chi è abituato a compiere azioni non positive abbia una reazione diversa da una non positiva. Una reazione positiva a qualche evento contrario non è altro che la consapevolezza che in effetti sarebbe potuta accadere. È importante gestire la frustrazione, come fa il pescatore quando il pesce non abbocca, gestire l'attesa, come fa il pescatore mentre la pastura fa il suo effetto, restare ottimisti e non solo sognatori, poiché si è convinti che ci si è preparati per il successo e che la pastura farà il suo effetto. Il pessimismo porta a cattivi risultati, è sia un'azione, sia una reazione, è un'attitudine. Non ho mai incontrato artisti e in generale persone di successo che fossero pessimisti. Anthony Robbins, la grande meta della vita non è la conoscenza, bensì l'azione. Bertolt Brecht, l'intelligenza non è non commettere errori ma scoprire il modo di trarne profitto. Un nuovo capitolo. La direzione e la distanza dall'obiettivo, allontanarsi per prospettiva. Quando ci poniamo un obiettivo, soprattutto se di difficile raggiungimento, la cosa più complicata da affrontare, prima ancora di capire quale strada imboccare per realizzarlo, è fare il primo passo. Immaginiamo di visualizzare il nostro ambizioso progetto come una montagna da scalare. Da troppo vicino all'altezza del promontorio potrebbe spaventarci e farci credere di non poterlo scalare con le nostre sole forze. Allontanandoci invece lo vedremmo più piccolo e meno spaventoso e ci potremmo preparare psicologicamente, allestendo l'attrezzatura per l'arrampicata. Oppure potremmo scoprire, per esempio, che per scalare la montagna è più saggio fare un tragitto più lungo ma meno impervio, composto da tornanti e una pendenza omogenea di sicuro alla nostra portata. Esiste dunque un altro aspetto riguardante l'allontanarsi dalla difficoltà, che è molto interessante, la gestione delle curve e della distanza. Quando ci poniamo un obiettivo, un fattore determinante è il fattore tempo, ovvero quanto tempo ci diamo per raggiungerlo. Questo ha un fortissimo impatto sulle possibilità di riuscita e, soprattutto, sulla sensazione di potercela fare o meno. Mi riferisco al focus sull'obiettivo, l'importanza cioè di non avere il nostro target troppo vicino, cosa che in effetti tende a eliminare ogni possibilità di variazione del percorso per raggiungerlo. Se l'obiettivo è molto ravvicinato, non abbiamo molte scelte. Poiché la strada è già tracciata, dobbiamo dedicare tutte le nostre forze unicamente al suo raggiungimento, senza alcuna possibilità di ripensamenti, miglioramenti o cambi di percorso. E tutto questo con un forte stress. Se invece allontaniamo l'obiettivo nel tempo, abbiamo una visione più chiara di ciò che lo circonda e possiamo avere degli aggiustamenti di percorso percentualmente poco impattanti sul costo del risultato finale. Se ci pensi, lo facciamo istintivamente ogni volta che abbiamo un impegno. Se dobbiamo affrontare un lungo viaggio che richiede del tempo, mettiamo in conto le fermate, eventuali codi in autostrada e altre variabili. Quando invece dobbiamo fare un tragitto breve, partiamo praticamente all'ultimo momento. Cosa accade? Accade che a un appuntamento tra diverse persone, quelle che probabilmente non arriveranno puntuali, saranno quelle che abitano più vicino al luogo dell'incontro, i quali, per avvertire del ritardo, chiameranno proprio all'ora dell'appuntamento. Credimi, è frequente. Chi arriva da lontano invece è in grado di avvisare con molto anticipo di un eventuale ritardo, perché ha un quadro più completo e tempo a disposizione, dando così agli altri il modo di organizzarsi al meglio per ottimizzare l'attesa. A questo ipotetico incontro, quindi, è possibile che chi proviene da più lontano si siede tranquillo ad aspettare gli altri, perché ha avuto il tempo di arrivare con calma e di rilassarsi, mentre è probabile che chi ha soltanto 10 minuti di macchina da percorrere arrivi trafelato e stressato. Come si riflettono questi esempi sulle impostazioni dei nostri obiettivi? Ho visto persone abbandonare progetti semplicemente perché li ritenevano troppo difficili da realizzare. In alcuni casi sarebbe bastato spostare la data del termine un po' più avanti e allontanarsi dal punto di arrivo, quel promontorio apparentemente invalicabile, così da vederlo rimpicciolirsi e poter ripartire avendo avuto il tempo di prepararsi e attrezzarsi. Attenzione, avere più tempo non significa partire dopo, perché altrimenti non cambia nulla. Ipotizziamo di avere sempre avuto il sogno di aprire una scuola di musica. Perdonami, resto nel mio ambito lavorativo. Ipotizziamo adesso che il sogno diventi un obiettivo realizzabile. Immaginiamo di essere ad aprile. Il periodo migliore di apertura di una scuola è settembre, tempo in cui si potrebbe prevedere una bella inaugurazione proprio prima che inizia l'attività scolastica ordinaria. Valutando la molle di lavoro da sbrigare, tipo trovare l'immobile, insonorizzarlo, accordarsi con i dicenti e altre faccende necessarie, potremmo dire non ce la farò mai e abbandonare il progetto. Ma se spostassimo l'apertura a settembre successivo, che accadrebbe? Accadrebbe che potremmo cercare con più calma l'immobile, senza urgenza e quindi con la possibilità di valutare meglio la zona dove aprire la scuola, l'habitat, la presenza di mezzi di trasporto pubblici nei dintorni, di eventuali bar o ristoranti per i pranzi degli studenti, di parcheggi per i genitori che accompagnano i figli a lezione e tanto altro ancora. Nel frattempo potremmo continuare a risparmiare un po' di soldi trattonendoli dallo stipendio della nostra attuale attività, trovare nel contempo un grafico che inizia a lavorare sul materiale per l'attività promozionale, qualcuno bravo che magari non avendo l'urgenza della consegna potrebbe farci un buon prezzo. Ci sarebbe insomma più tempo per pianificare il lavoro e anche per prepararsi a qualche evento contrario che potrebbe creare problemi, ma che avendo pasturato con sufficiente anticipo saremo in grado di gestire al meglio. Tuttavia ampliando l'orizzonte temporale non bisogna cadere nell'errore di partire più tardi, vanificherebbe la teoria, la pratica e l'essenza stessa del concetto. Voglio farti un altro esempio che mi è molto vicino. Incontro spesso chitarristi che mi chiedono come fare per avere la grande occasione di entrare nel mondo del lavoro. In passato personalmente segnalato alcuni dei miei studenti, garantendo per loro e grazie al mio intervento hanno iniziato a fare chitarristi di professione. Una volta che in giro si è saputo questo, grazie anche ai social, mi sono arrivate moltissime richieste del tipo posso fare un provino con te e magari diventare un tuo allievo per poter essere da te introdotto nel mondo del lavoro? È un discorso un po' più complesso. Quando seguo uno studente, e non ne ho molti, lo faccio con molta attenzione. La prima cosa da osservare è a che distanza porre il termine di questo nostro lavoro. Un orizzonte temporale che ci permetta di capire se e quando verrà raggiunto un risultato apprezzabile. Bisogna darsi degli obiettivi, mettere dei paletti qua e là. Ricordandoci il titolo di questo libro, che cosa cadrebbe al pescatore che ha pasturato per poter pescare grosse carpe, utilizzando il giusto amo e la giusta esca, ma un filo troppo sottile e una canna poco robusta e non testata? Non sarebbe questa una circostanza assimilabile a quella dello studente che, nonostante le buone conoscenze, una buona tecnica, una buona strumentazione, si trova catapultato in una situazione decisamente professionale, con una notevole pressione da gestire e una quantità di variabili da valutare a cui non è abituato? Il pescatore vedrebbe il filo spezzarsi e la canna danneggiarsi. In effetti un risultato più frustrante di una pesca andata a vuoto. Il chitarrista probabilmente uscirebbe di scena oppure farebbe una figura non all'altezza delle sue aspettative. Parleremo del treno che passa e di come sfruttare queste occasioni. L'importante è ricordarsi sempre che il proprio sogno può diventare un obiettivo, ma che ci sono, come nella lista che vedremo tra poco, sia il target del progetto, sia il target iniziale e non è bene saltare il target iniziale. Saltare alcuni passi potrebbe essere pericoloso, perché se non si è pronti il prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto, più alto di quanto ci siamo preparati ad affrontare. Potremmo in effetti dover fronteggiare un vento contrario per il quale non abbiamo ancora reazioni adeguate. Ricordiamoci che allontanandoci un po' dall'obiettivo abbiamo la possibilità di effettuare piccole variazioni di percorso con un'incidenza non eccessiva sul risultato finale. Al contrario, se restiamo troppo vicini, dobbiamo andare in linea retta, determinati e sicuri. È necessario avere sistemato tutte le azioni ed essere pronti alle giuste reazioni. La resistenza e la perseveranza, il metabolismo del progetto. Di questo, invece, ve lo leggerò in un prossimo incontro di questi audiobook su YouTube. Vi ricordo che il libro come la pastura per il pescatore, il vento per l'aquilone è anche disponibile in Kindle, in ebook PDF e in libro, ovviamente, cartaceo nei negozi di strumenti musicali, online sul mio store.massimovarini.it e c'è anche in versione PDF. E quindi vi aspetto per i prossimi incontri, le prossime chiacchierate. Siamo arrivati a pagina 37. Ciao!